Ok, è successo, sono arrivati più mi piace del previsto Quindi mi dovrò prendere un aspirino del pacco che mi è arrivato Comunque ciao amici e ben ritornati su Youtube Per onorare questi due pacchi io troverò una aspirina che schifo Non so se marcia qualcosa, è già aperta, è già aperta Senti, non so, oddio Come si prende la aspirina? È una pastiglia, ok Ho un'idea Limpierò questa tazza Con questa dentro Aspettate Me la faccio, me la faccio Va bene, è dentro La tazza è infatti fatto cadere qua dell'acqua adesso se avete visto Ecco che bello Stupendiato Buona idea Attenzione Questo no No, no, no Aspirina Acido Salici Ok Ok Io non so come si prende una fottuta aspirina Cioè io guardo sotto Devo guardare lì qua Guarda adesso io sto guardando voi perfettamente Io di solito guardo il mio occhio Cioè adesso non mi sto guardando Adesso sì Come la complessa di aspirina va deglutita con acqua Tè Limone Eccetera Ops Mi sa che mi è successo un'intervista Va deglutita Ma io l'ho fatta sciogliere Ma che cazzo ce ne frega a noi Io non ho neanche pulito la tazza Ed è tutta sporca Io sono un uomo Vero? Ok Ho sporgato ancora Dio vuole sabbiette nella lingua Che spifo Ora basta E gli mettiamo il libro di Star Wars mezzo rotto Consigliatemi le cose da fare Tipo scherzi E roba così Che ne ho già in mente uno bello Me lo amo ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate tanti per i giorni in su Seguitemi su Facebook Instagram Tutti in descrizione E noi ci vediamo alla prossima Ciao raga Ciao raga Ciao raga